Incontrarmi con i grandi romanzi, fare incontri di divulgazione, sperimentare a teatro, ti permette spesso di ritrovare quelle motivazioni profonde al tuo lavoro che nella quotidianità a volte per ti. Fare scienza non lo fai solo per te stesso, tu vuoi rispondere a grandi domande, affrontare misteri, provare a dare un contributo a rispondere a grandi domande, non solo per te, ma anche come contributo che dai alla comunità, alla specie di cui fai parte. E quindi vuoi comunicare, cioè la scienza senza comunicazione, senza condivisione, non sarebbe scienza, non sarebbe conoscenza, la conoscenza è tale quando è condivisa. E quindi secondo me gli scienziati si devono far carico di questa necessità, di questa frugenza di condivisione. Tocca anche agli scienziati, non solo a loro, ma tocca anche a loro perché sono loro attori in questa parte, loro conoscono bene l'argomento di cui si parla, i misteri, le risposte che proviamo a dare, non per effatizzarle ma per farle comprendere meglio.